Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo all'avvertenza Enigela. Il protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014 è stata la risposta alla grande mobilitazione di tutte le categorie economiche della città e se ciò è avvenuto il motivo va ricercato nella totale assenza di alternativa occupazionale che ha colpito molte città del sud Italia, Gela inclusa. E quanto sottolineano i segretari di CGL, CISL e UIL, il protocollo, se velocemente attuato, darebbe risposte concrete in termini occupazionali ai lavoratori ed in termini imprenditoriali ad una moltitudine di aziende in crisi da decenni. Vediamo. La crisi del polo industriale Enigela si è manifestata prima della firma del protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. Le imprese dell'indotto a fase alterne hanno richiesto e ottenuto l'uso di molteplici ammortizzatori sociali e la stessa Enigela ha avuto accesso alla cassa integrazione nel giugno del 2012. Il protocollo d'intesa è stata la risposta alla grande mobilitazione di tutte le categorie economiche della città e se ciò è avvenuto il motivo va ricercato nella totale assenza di alternativa occupazionale che ha colpito molte città del sud Italia, Gela inclusa. Lo dicono i segretari di CGL, CISL e UIL, Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. Il protocollo, se velocemente attuato, darebbe risposte concrete in termini occupazionali ai lavoratori ed in termini imprenditoriali ad una moltitudine di aziende in crisi da decenni. I sindacati esprimono forte preoccupazione per tutto ciò che in termini occupazionali, sociali ed economici sta attraversando, vivendo, travolgendo Gela, determinando uno stato di ansia, rabbia e scoraggiamento diffuso che potrebbe generare problemi di ordine pubblico. Da più parti si avverte la necessità e l'urgenza di costruire nell'immediato una vera e tangibile coesione sociale ed istituzionale per dare più forza alle rivendicazioni del mondo del lavoro, delle imprese e da tanti disoccupati in attesa del loro primo giorno di lavoro. È chiaro, rilanciano, che per il sindacato dei lavoratori l'obiettivo deve essere unico, salvaguardare la presenza della storia industriale attraverso l'avvio di bonifiche, nuovi insedimenti e la costruzione della bioraffineria. Non è secondaria la crisi della raffinazione mondiale, ma ciò non può tradursi in alibi per cullarsi, facendo finta che il protocollo, i progetti industriali, le risposte da dare ai lavoratori e alle imprese arrivino da soli. Una crisi senza precedenti impone iniziative senza precedenti, una fase straordinaria impone un'azione straordinaria. Ci vuole coesione. È però sotto gli occhi di tutti la preoccupazione per il presente, così come sotto gli occhi di tutti la chiusura di decine di piccole e medie aziende, nonché attività commerciali. A Gela non serve una mano dall'alto e neppure un finanziamento a pioggia. A Gela è utile fare ciò che si dice senza nessun timore e senza attendere altro tempo. Il tempo sta per diventare uno dei fattori sfavorevoli alla vita della città, che rischia ogni giorno di trasformarsi in dormitorio, né città industriale, né il sogno di città turistica. Il sindacato dei lavoratori, preso atto dello Stato di stallo nell'applicazione del protocollo d'intesa, accompagnato dall'inquietante silenzio delle istituzioni politiche, governative, regionali e nazionali ed in assenza di risposte immediate, che lo stesso rivendica da mesi attraverso lettere, appelli, incontri nelle sedi istituzionali, nelle prossime ore attiverà una serie di incontri al fine di realizzare nei prossimi giorni iniziative di mobilitazione in grado di svegliare chi può e deve decidere sulla vertenza a Gela. È ora di dire basta ed è ora di capire chi ha le responsabilità e queste, chiudono giudice, Gallo e Castania, non possono essere attribuite al sindacato dei lavoratori che con dedizione e pazienza ad oggi ha mantenuto l'ordine pubblico grazie alla maturità dei lavoratori e dei cittadini. Gela rivendica lavoro e non assistenzialismo. Portare il caso Gela, dunque avvertenza nazionale. Questo è l'obiettivo con cui il presidente dell'Assemblea provinciale del Partito Democratico, Carlo Romano, ha inviato al vice segretario nazionale del Partito Democratico, Lorenzo Guerini, per una visita in città in modo che si possa cercare una soluzione ad una crisi senza precedenti. Gela, ha detto Carlo Romano, sta vivendo una grave crisi economica, sociale ed occupazionale determinata dalla chiusura della raffineria e conseguenza dell'accordo stipulato tra Eni, sindacati ed alcuni ministri del nostro governo finora disatteso. La visita di Guerini, oltre a fare di Gela un'avvertenza nazionale, servirebbe anche per fare in modo che i responsabili di questa crisi attivino per cercare di risolverla il prima possibile. Si sono incatenati, dinanzi l'altro dell'ospedale, gli infermieri del Sant'Elia con dei cordoni rossi per dire stop al demanzionamento e al mobbing. Una manifestazione promossa dal Nursing dopo gli episodi verificati in alcuni reparti dell'ospedale che hanno provocato tensioni tra il personale infermieristico e quello medico. Un'occasione per ribadire che l'infermiere è un professionista della salute e che come tale va rispettato. La manifestazione di oggi tende e soprattutto si amplifica sul risultato di qualche tempo fa quando un dirigente medico ha deciso che l'accesso al suo reparto doveva essere regolato da un'infermiere che doveva alzare e abbassare il cordone. A questo punto la situazione è esasperata e abbiamo detto stop. Ma non è semplicemente questo episodio, per tanti altri. Noi non dovremmo essere tenuti ad eseguire igiene del paziente salvo in casi estremi. Invece è una cosa che viene fatta con quotidianità. Il paziente non riesce neanche a capire se quello che gli fa l'igiene personale o gli dà da mangiare è uguale a quello che poi nel caso di un arresto cardiaco gli salva la vita. Una visione diversa di quello che è il ruolo dell'infermiere. Un infermiere che non viene posto così come da contratto, così come da evoluzione nel tempo al centro dell'assistenza infermieristica, Bezzi viene inteso come semplice esecutore di ordini. Purtroppo l'infermiere ancora non viene tenuto in considerazione. Noi dobbiamo dire che siamo degli infermieri. Non vogliamo essere dei medici. Il medico ha la sua specialistica, il suo lavoro ed è giusto che debba essere così. Noi dovremmo essere esecutori di ordini, però bisogna essere dei grandi infermieri. Noi chiediamo che venga riconosciuto il giusto ruolo dell'infermiere come un professionista della salute. Ribadiamo che siamo qua per costruire e non per distruggere. I dirigenti medici ai quali noi ci rivolgiamo, quelli con molta più sensibilità, onestamente non hanno di questi problemi. Gli altri sì. A costore diciamo che evidentemente non siamo disposti a subire, che siamo dei collaboratori e non certi dipendenti loro. Siamo dipendenti assieme dell'ASPO di Caltanissetta e contemporaneamente se questa azione non regredisce passeremo alle azioni legali. Un problema che è stato segnalato dal NURSIN dalla direzione generale che ha anche scritto all'ordine dei medici al Collegio Ipasbi affinché si facciano garanti della volontà di migliorare il rapporto tra medici e infermieri in quelle situazioni dove continuano ad arrivare segnalazioni di disagio. Ad oggi non abbiamo nessuna risposta, anche se c'è stato detto che prenderanno gli opportuni provvedimenti e faranno le opportune indagini in merito al caso. Noi con questa manifestazione vogliamo sensibilizzare sia l'utenza sia il personale che ruota attorno all'ASPO. Non è possibile ad oggi, al 2016, vedere la professione infermieristica infangata in questo modo. Ci sarà anche il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Rosi Bindi, all'inaugurazione della nuova sede dell'associazione antiracket Catano Giordano di Gela, preseduta da Renzo Caponetti, che sorgerà nei locali di Palazzo Cuttilla in Corso Vittorio Emanuele 162-168. Appuntamento per giovedì 21 gennaio alle 11. Saranno presenti inoltre Pippo Scandurra, presidente nazionale FAI, Tano Grasso, presidente onorario FAI e Santi Giuffre, commissario straordinario antiracket. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci dell'open day all'Istituto Suor Teresa Volsè di Macchitella. L'Istituto Suor Teresa Volsè di Macchitella Gela ha aperto le proprie porte in occasione dell'open day, una giornata di festa per studenti e genitori, una scuola che vuol farsi conoscere e dunque scegliere in vista dell'anno scolastico successivo, un giorno in cui la scuola si è presentata e ha mostrato il suo lato migliore. Suor Teresa Boscarello ha presentato alla scuola la sua utenza, l'offerta formativa in generale. Credo che la prima cosa è il progetto di Dio, chi è che entra a far parte della nostra scuola così come tutti rientrano e fanno parte di un grande progetto che è quello che è stato voluto da Don Bosco che è la formazione integrale dei ragazzi, dei giovani. Ecco, noi con il carisma salesiano vogliamo dare al territorio, a tutto il territorio, ai ragazzi di oggi un input, un qualcosa in più per la loro formazione che poi ritroveranno come bagaglio, si ritroveranno quando saranno già adulti. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. E' il tema dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano che si concluderanno mercoledì 20 gennaio presso la parrocchia di San Sebastiano Martire a Gela guidata da donna Filippo Salerno. Ogni giorno alle 18, lo ricordiamo, è prevista la messa con riflessione omiletica. C'eravamo abituati ad un clima mite, fuori dalla norma, giornate soleggiate e nessun accenno di cattivo tempo, ma nel fine settimana appena trascorso è arrivata, come già annunciato dagli esperti qualche settimana addietro, la prima verondata di gelo sulla città e in generale su tutta la Sicilia. Sembrano ormai un lontano ricordo le belle giornate di sole che ci hanno accompagnato fino a qualche giorno fa, quando le temperature sono addirittura arrivate a sfiorare 20 gradi e l'inverno sembrasse non arrivare mai, ed invece sabato notte i primi fiocchi di neve sono scesi su Caltanissetta. Non è stata di certo una nevicata a record, nonostante abbia continuato a nevicare anche nella giornata di domenica, ma le temperature sono calate drasticamente sotto lo zero. Nessun allerta meteo dunque, anche perché stamane Caltanissetta si è svegliata col sole, che seppur tiepido ha fatto sin da subito il proprio dovere, facendo sciogliere i cumuli di neve sparsi per la città e sopra i tetti delle abitazioni. Sarà dunque una giornata all'insegna del bel tempo, quella di lunedì, anche se il freddo si farà sentire. La situazione meteo rimarrà comunque sotto monitoraggio da parte della protezione civile, sembra essere scongiurato il rischio di altre nevicate nei prossimi giorni, ma fino a mercoledì sono previste temperature rigide e abbondanti piogge. Nel frattempo, già a partire dalle prime ore di stamane, sono entrati in azione mezzi spargisale nei punti più critici della viabilità urbana. E da oggi, fino al 24 gennaio prossimo, presso il Palazzo Ducale, è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo, realizzata da Franco Pardo, in collaborazione con croce a tardi, espongono gli artisti Ginapardo e Pino Polara. La mostra, patroginata dal comune di Gela, potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Opportunità di lavoro giungono dall'agenzia Conci Events di Gela. Sentiamo Fabiola Polara. Oggi è venuta a trovarci l'allegra compagnia della Conci Events, siamo all'interno dei nostri studi, è davvero una bellissima sorpresa per noi, un bell'incontro. Voi siete un'agenzia di moda, ma non soltanto. Allora, noi siamo, come amo definire la Conci Events, una famiglia. Ci occupiamo dei giovani, cullandoli nel loro percorso per quanto riguarda le proprie passioni, che possono essere il canto, il ballo o anche la moda. Ma siamo anche un'agenzia a Ollus che si occupa del territorio e dei ragazzi meno fortunati. Il nostro percorso vorrebbe anche coinvolgere i diversamente abili, affinché vedendo questi giovani che attraverso le proprie passioni portano avanti un sogno, si immedesimano e sognano assieme a loro. Concetta, tu sei la mamma di questa famiglia, sei il focolare domestico, rappresenti davvero un punto di riferimento e lo hai anche detto, per me sono come dei figli. Eh sì, sono veramente come dei figli e in questo momento sono 100 e seguire tutti e 100, guarda, c'è da impazzire, perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Però io sono, loro mi definiscono il pugno forte dell'associazione. Avete avuto anche grandi soddisfazioni, perché oltre agli eventi che avete organizzato e realizzato un po' in giro per la Sicilia, non soltanto a Gela, arrivano i primi risultati importanti, avete portato a casa il primo risultato con due ragazze che si sono trasferite in Puglia per lavoro e dare lavoro a delle ragazze oggi è davvero una grande conquista, soprattutto nel mondo della moda. Sì, infatti io ringrazio Donato e Piero, che fanno parte di un brand a Bari, dove mi hanno contattato per queste due ragazze. Loro sono tranquillissime, stanno lavorando, io li chiamo 24 ore sopra 24, notte e giorno, perché l'ansia e li preoccupo, magari chissà cosa può succedere, però in questo momento sta andando tutto bene, stanno lavorando e sono felice per loro. Sono delle opportunità importanti che date comunque ai giovani, un'opportunità è sempre qualcosa di molto significativo. L'opportunità va accolta, va presa con le pinze, non va affatto il processo alle intenzioni, bisogna giocarsi la carta. Parlavamo dunque di modelle, conosciamole attraverso le interviste realizzate da Fabiola Polara e per Carnevale spazio ai talenti dell'agenzia e a tanti artisti locali. Anche per te si stanno aprendo le porte del mondo della moda, hai due guide sicure, che cosa ti ha fatto appassionare a questa attività? All'inizio mi ha contattato appunto con Getteliardo per partire ad un evento a Stelerno e da lì in poi è cresciuta sempre di più comunque questa passione che ho avuto da sempre. E che cosa ti auguri per il tuo futuro? Beh, mi auguro che sia un futuro ricco di sorprese e di soddisfazioni comunque. Anche Denise è appassionata del mondo della moda. Sì, ho iniziato questa esperienza mesi fa, ho visto comunque i giovani che seguivano i loro sogni e ho deciso anche che il mio sogno potrà essere portato a fine con la Concea Evans. Sono stata anche a Milano e ho fatto uno shoot fotografico e sono sempre soddisfatta della Concea Evans e credo di portare a termine questa cosa. Benissimo, oltre però alla moda vi occupate anche di arte varia, tipo la musica e infatti tu sei ad esempio una cantante. Sì, sì, ho iniziato a studiare scuola di canto da più di tre anni e comunque quando canto cerco di esprimere le mie emozioni alle persone che comunque mi ascoltano. Fa parte anche della grande famiglia della Conce Evans, Graziano, che tutti conosciamo, per la musica che ci fai ascoltare. Come ti sei avvicinato a questo gruppo? Allora, ho iniziato per gioco. Un giorno mi vedo con Giuseppe e mi dice guarda, voglio cercare di mettere la tua immagine non come moda ma come musica. E io gli ho detto ma stai scherzando? E lui mi fa no, proviamoci. Abbiamo fatto la prima sfilata e abbiamo trasformato il palco in una discoteca. Cioè la gente, le famiglie ballavano sotto il palco. E da lì è nata una collaborazione, abbiamo deciso che in ogni sfilata metteremo la figura del DJ perché infatti stiamo preparando questo grande evento che sarà il Carnevale. Aspetteremo la piazza DJ la piena e trasformare non solo l'evento in un evento di moda ma anche in discoteca. Possiamo dare qualche anticipazione su questo Carnevale? Sì, ci stiamo lavorando. Ci sarà un grandissimo palco, un ospite a sorpresa. E l'agenzia, la Concevent, che ormai ovunque si sposta, porta sempre tantissima gente. Il Soroptimist Club di Gela bandisce un concorso fotografico dal titolo Le Dune Gelesi rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze del nostro territorio. Le foto inedite dovranno pervenire entro il 15 marzo prossimo. Saranno premiati i primi tre classificati. Il bando di concorso è consultabile presso tutte le scuole superiori di Gela. È prevista per sabato 23 gennaio alle 10.30 l'inaugurazione della nuova sede di Casa Artigiani del Golfo di Gela presieduta da Antonio Ruvio. I locali sorgono in via Ettore Romagnoli al Civico 60. Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con 10 domande 10. Il nostro ospite è il comandante provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta e il colonnello Gerardo Petitto. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18.00. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Sono aperte le iscrizioni per far parte dell'associazione di volontariato Santa Lucia Soccorso di Gela per informazioni rivolgersi in segreteria in via Ettore Romagnoli al Civico 78. C'è anche un numero telefonico 349 78 99 796. Lo ripetiamo, 349 78 99 796. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe dal 19 marzo prossimo a Gela dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare. Lo comunicano i padri agostiniani. E adesso parliamo di sport, calcio, pareggio 1-1 per il Gela. Ieri ad Alcamo, parliamo del campionato di eccellenza. Un pari che ha lasciato l'amaro in bocca ai bianco-azzurri andati in vantaggio con Mincica e ripresi su un calcio di rigore alquanto dubbio. I punti di svantaggio dalla capolista san-cadaldese sono aumentati. Adesso infatti sono tre in merito alla vittoria conquistata dai neroverdi in casa con il Mazzara per 1-0. E domenica al Presti sfida quasi decisiva. Noi oggi ne abbiamo parlato con il difensore Fabio Campanaro. Fabio Campanaro, fino alle 15 di ieri avevate soltanto un punto di svantaggio dalla san-cadaldese. Al termine delle partite di ieri i punti sono aumentati, sono tre. Ma avete la grande possibilità di recuperarli subito battendo la san-cadaldese domenica prossima al Presti. Sì, sapevamo che ieri sarebbe stata una partita complicata e visto l'andamento che aveva l'Alcamo soprattutto nelle partite in casa hanno fatto i miei compagni un'ottima partita. Il pareggio ci può stare perché è una trasferta abbastanza difficile. Adesso domenica ci sarà la partita, l'arresa dei conti. Cercheremo di farla nostra questa partita per cercare di annullare questo svantaggio. Già la testa è proiettata alle 15 al Vincenzo Presti. Due pareggi nelle ultime due partite per il Gela. È un dato preoccupante oppure si guarda il bicchiere mezzo pieno? Sì, se si guarda sotto l'aspetto della classifica abbiamo lasciato quattro punti soprattutto nella partita in casa dove abbiamo pareggiato però se si guarda con le squadre con le quali abbiamo pareggiato diciamo che ci può anche stare. Adesso l'importante è non lasciare più punti per strada e cercare di fare questa ringorsa e arrivare dove raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati inizio anno. Che sarebbe il salto di categoria. Sì, ormai non possiamo più nasconderci. Tornando alla partita di domenica prossima con la San Gataldese possiamo definirla la madre di tutte le partite perché proprio in quella partita secondo un nostro punto di vista si deciderà un intero campionato? Si deciderà soprattutto le nostre sorti perché non possiamo fare un passo falso perché sarebbe fatale. Se noi vingiamo saremo sempre lì a giocarcela non è che se vingiamo la partita di domenica abbiamo vinto il campionato andremo a pari punti. Quindi abbiamo da perdere solo noi perché non possiamo più commettere errori. E quanto sarà importante domenica prossima l'apporto del pubblico? Ma su questo posso stare tranquillo perché Gela queste occasioni non le lascia così al caso. Domenica abbiamo bisogno, saranno fondamentali i nostri tifosi, l'apporto del pubblico. Infatti colgo l'occasione per invitare le persone al campo perché abbiamo bisogno soprattutto di loro e poi noi faremo il resto e li lasceremo soddisfatti. E nel campionato di promozione vittoria per il Macchitella Gela contro l'Atletico il portiere Biancorosso Marino sugli scudi. Una spina nel fianco dell'Atletico Gela ovvero la vittoria per 1-0 del Macchitella nel derby di ieri grazie alla rete del giovane Dennis Spina. Una vittoria importante, quella conquistata dai Biancorossi che saranno così a quota 22 punti in classifica allontanandosi notevolmente dalle zone rosse della gradatoria. Un derby vinto grazie al gruppo e soprattutto grazie alle belle parate di Vincenzo Marino, determinante in almeno tre occasioni. Masticamaro, anzi amarissimo, la formazione giro rossa apparsa ieri sotto tono e con le polveri bagnate. Una sconfitta che pesa come un macigno nella corsa verso il secondo posto considerata la contemporanea battuta d'arresto per 1-0 della Licata sul campo del Canicattì. Tre punti mancati che avrebbero significato l'assalto al secondo posto un sogno realizzabile ma che adesso con sette lunghezze di svantaggio rimane un miraggio. Anzi, adesso i gerolossi dovranno guardarsi alle spalle con il rientro nei giochi di Canicattì e Ragusa. La cronaca della gara, visto la partenza bruciante del Macchietella Gela, che ha trovato già al settimo la rete del vantaggio con Spina servito da Parisi che tutto solo davanti alla porta dei padroni di casa l'ha messa dentro riscaldando la partita e l'infreddolito pubblico del Presti. Che non sia stata una giornata positiva per l'attatico Gela lo si è capito poco dopo quando Antonio Famà è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio. Allo suo posto è entrato Gianratara. Al 26esimo, il Borgescudera ha sui piedi la palla del pareggio ma si lascia ipnotizzare dal portiere degli Aquilotti Marino il quale interviene con i piedi sul tiro dell'ex attaccante Biancorosso. Reazione della Macchietella al 39esimo con Caruso che ci prova sul calcio piazzato ma la palla termina di poco a lato. Il primo tempo termina con gli Aquilotti di Mister Fauciana ieri in tribuna per squalifica in vantaggio per 1-0. Il rientro dagli spogliatoi è una doccia fredda per Acia e compagni costretti all'inferiorità numerica al quinto per l'espulsione di Zarba che commette un fallo su Faraci. Al 14esimo, contropiede dei Biancorossi con Tuve che spara alto sulla traversa. Atletico Gela che reclama un calcio di rigore poco dopo per un fallo del portiere Marino su Scudera. Davide Acia ci prova dalla distanza ma la palla termina sulla schiena di un difensore del Macchietella che resiste agli assalti dei Gelo Rossi. Al 21esimo, ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Sergio Greco che si becca il cartellino rosso per qualche parolina di troppo all'arbitro. Al 23esimo, Faraci potrebbe raddoppiare ma manca l'aggancio di testa. Poco dopo, sale in cattedra l'estremo difensore degli Aquilotti con un doppio intervento prima sul tiro di Giardizzo e poi sul tentativo ravvicinato di Retucci. Al 29esimo, rete annullata ai padroni di casa per un sospetto fuorigioco di Davide Acia. Tensione a fine gara con il tecnico Misiti allontanato dalla panchina. Dopo 5 minuti di recupero segnati dall'espulsione di Retucci per un fallo su Faraci ed un altro miracolo di Marino sulla punizione di Acia l'arbitro Leotta di Cireale decreta la fine delle ostilità con il Macchitella Gela che vesteggia la sua prima vittoria in un derby. E a fine partita abbiamo raccolto le impressioni dei vincitori sentiamoli al microfono di Flavio Centamore. Giovanni Cinici sul tuo volto traspare la contentezza di aver vinto da capitano soprattutto il primo derby del Macchitella Gela nella storia del calcio di produzione. Eh sì finalmente ce l'abbiamo fatto dopo tutti i derby che si sono susseguiti in questi anni finalmente il primo è il nostro. Abbiamo giocato una buona partita perché tutta la settimana Mister Facciana ci ha fatto lavorare molto sull'aspetto psicologico e mentale dato che siamo una squadra molto giovane e veramente oggi siamo entrati subito col piglio giusto si è visto congendrati ben messi in campo sapevamo come muoverci ognuno ha fatto il suo e questo ci ha ripagato. Abbiamo sofferto poi nel finale perché l'esperienza loro sono saliti in più hanno preso campo perché non avevano più nulla da perdere volevano pareggiarla e ci hanno messo in difficoltà. Fortunatamente la partita è finita e ci siamo portati a casa i primi tre punti in un derby. Bella prestazione i ragazzi hanno fatto la lettera tutto ciò che io o abbiamo allenato in settimana e praticamente sono stati imbeccabili ci siamo riusciti alla grande con una grandissima prestazione e sapevamo del valore dell'avversario tenevamo ai tre punti ma soprattutto alla vittoria del derby perché non lo vincevamo da tempo e il merito va ai ragazzi che veramente mi danno l'anima durante la settimana lavorano e non mancano mai il merito è che va tutto va tutto loro infatti oggi li abbraccio con affetto per tutto quello che riescono a fare in settimana e a produrre. se il Machidella è riuscito a portare a casa questa importante vittoria il merito anche del suo portiere Marino che ha più volte tolto la castaglia dal fuoco in questa gara sì ogni settimana noi ci alleniamo anche se non abbiamo un preparatore ma cerchiamo di fare quello che possiamo niente oggi so dire solo che ci siamo abbiamo fatto un bel calcio e niente abbiamo vinto e basta sei riuscito più volte a rispingere gli attacchi dell'Atletico Gela sul tiro ravvicinato di Retucci l'ultimo assalto di Davide Ascia niente che dire è il mio compito e paro si darà domani con inizio previsto per le 17 a 30 al Vincenzo Presti di Gela il terzo memorial di calcio dedicato a Pino Morinello ex presidente del Terra Nova e del Gela gettì scomparso il 2 gennaio del 2013 a causa di un arresto cardiaco l'iniziativa è patrocinata dal comune in collaborazione con l'associazione Santa Lucia a soccorso l'ingresso è libero e adesso parliamo di spettacolo è il consiglio d'Egitto l'appuntamento teatrale previsto all'eschilo di Gela si darà sabato 23 gennaio alle 17 e 15 e alle 21 e 15 sul palco è Narico Guarneri per la regia di Guielmo Ferro invece al cineteatro antitolo di Machitella a Gela è in programmazione il film uno per tutti sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 abbiamo concluso anche per oggi grazie e arrivederci a Gela Grazie a tutti.